Il Battistero di San Giovanni in Fonte, uno dei più antichi al mondo, è uno dei monumenti più interessanti del Vallo di Diano. Benvenuti nel Vallo di Diano, tra Padula e Salaconsina, vi è il maestoso Battistero di San Giovanni in Fonte. Uno scrigno di storia, cultura e religiosità, l'unico al mondo che utilizza l'acqua battesimale attingendola direttamente dalla sorgente. Il sacramento del battesimo assumeva quindi i contorni di un vero e proprio miracolo della fede. Lì ha preso corpo l'entusiasmo dei primi cristiani del nostro territorio. Insomma, un gioiello da visitare. Vi aspettiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.